Musica Ragazzi ci siamo, benvenuti Musica e magari uno è semplicemente un sottotetto le perdo tutti sì sì ma che è un bombardamento ne aspetto altri ragazzi il video è partito sicuramente in una modalità molto simpatica tutti questi piccioni che sono usciti per farci esplorare è stata una cosa abbastanza strana comunque ora facciamo vedere una delle case più piene di roba mai vista nel panorama urbex e soprattutto c'è una particolarità molto interessante era uno scienziato inglese che ospitava in questa casa è famoso per tre leoni, ha avuto due volte tre leoni c'è assurdo, qui c'erano dei leoni dentro questa casa oltre agli altri animali che avevano esatto esatto, infatti 200 cucce in giro venite con noi ragazzi ci siamo, benvenuti grazie a tutti grazie a tutti ma tra l'altro stavo per perdermelo prima di entrare amici questo è un rettilario questo è un rettilario bello e buono buttato qua fuori che roba l'altro è enorme veramente grosso sicuramente starete capendo è una villa parecchia o particolare questa ora entreremo anche se sto cercando di guardarmi attorno prima di entrare perché potrei perdermi degli elementi molto interessanti e niente dentro è veramente un macello siamo preparati proprio a una confusione generale stiamo anche molto attenti perché ovviamente ha dei danni strutturali ormai non da poco e il buon Robi se l'è già spoilerata tra l'altro sì sì ma preparatevi perché appunto mi stempia questo era un calendario tipo? sì tipo c'è questa stranissima guardate qua wow mamma mia ragazzi ma quanta roba che c'è qui dentro io direi di passare alla 7S2 1 3 5 6 6 6 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 amici come potete vedere questo forse però era un acquario non ero un retirario ed è anche un acquario parecchio enorme no veramente una villa pienissima guarda un orologio wow stavo cadendo è un casio si no seco seco iscriviti al canale cambiamo stanza amici voglio vedere quella dall'altro lato cucina andiamo ma è piena c'è ogni bene di dio possibile e immaginabile wow wow ma hai presente che qua starò praticamente una giornata a filmare ogni singolo elemento probabilmente ci sono i quadri era un video lunghissimo si ma che bello qua ma che bello ma è bellissimo tra l'altro avevano c'è tipo special kellogg's ovunque cioè proprio affiliati cioè abbonati abbonato di accumulavano qua c'è tutta la zona segreteria telefonica tra l'altro era una cosa moderna all'epoca grazie a tutti ragazzi abbiamo uno dei primissimi il gameboy e io ho un pezzo di sale sullo schermo non so come c'è arrivato grazie a tutti ok la cosa strana è che non ho idea di dove sia carlo infatti dov'è carlo questa è la domanda principe di tutte le nostre esplorazioni e questa è la scala per andare a secondo piano ma sono praticamente davanti all'ingresso vero principale probabilmente ed è una cosa estremamente enorme ora lo vedremo tutto vi farò vedere ogni dettaglio che c'è qui per terra ammesso che il soffitto me lo permetta ancora di farlo vediamo il collare del leone subito proprio così a bruciapelo vai tanto abbiamo davanti il nostro Ale Funes o Fiumes o anche soprannominato da noi simpaticamente Ale Valdi Fiumes e questo è il collare del leone perché ora il nostro Ale ci racconterà un po' la storia che è molto interessante tra l'altro questo signore qua praticamente abitava con due ragazzi e si racconta che aveva tre leoni in realtà non abitava su questa casa qua ma nel paese qui avanti vicino a un fiume dove c'era la casa della diga la parte idroelettrica dove la gente ci faceva il bagno e gli abitanti della zona si lamentavano appunto i sitre leoni che giravano per il cortile ma erano liberi quindi io pensavo che erano delle gabbie erano legati però erano legati dentro questo cortile wow e questo è quello che abbiamo trovato noi sui vari siti giornali radio e lì sono stati mandati via si racconta che li ha trasportati qua con un'ape l'ape però c'è qui dietro adesso ti porto a vederla quindi la leggenda è verità per forza forse qualcosa di vero c'è speriamo però insomma questo non può essere un collare di un cane eh no 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 questo è un collare cioè se non era un leone era un alce cioè comunque questo è qualcosa di enorme con un collo abbastanza robusto certo che mettere un collare a un leone che adorava i leoni questo era poco ma sicuro se guardi in giro per la casa è pieno di rarazzi statuine cose varie adesso li cercheremo tutti ovviamente guarda là ce n'è già una una statuina piccolina ma guardala qua si aspetta che devo salire sopra un piedistallo eccola qua prima statua del leone trovata come potete vedere amici comunque anche la struttura presenta veramente gravissimi danni strutturali questa crollerà veramente da un giorno all'altro 1 3 5 6 6 wow come potete vedere bene c'è una bella libreria ancora ordinata con tutti i libri l'enciclopedia internazionale e poi anche qui davanti questa è veramente ben tenuta è incredibile come comunque sono alternati tra i libri di questa libreria libri di scienze naturali di biologia anche a libri storici e libri come a dei romanzi quindi era una persona a cui piaceva la lettura in generale però molto più orientato ovviamente sulla biologia come sappiamo comunque anche perché era pieno di cani, gatti, uccellini, rettili e soprattutto leoni cioè leoni io non oso immaginare il paese che era a conoscenza di questa cosa e tra l'altro come ha detto il nostro amico Ale questi leoni ci giravano nel cortile tramite un guinzaglio cioè è un qualcosa di surreale sembra che arrivi da un film cosa abbiamo qui di bello ragazzi? a parte tutto un po' sfondato ci passiamo da fuori che è meglio si? si si è conciato veramente male? si ma poi non si passa c'è la fatica è stretta no 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 meglio di no l'altro fuori è aperto ottimo qua c'è il suo panchino e l'ape e l'ape orco dio vediamo cosa c'è ah mio questo era un mega cammino gigantesco passiamo ormai purtroppo possiamo vedere qua il soffitto è completamente caduto e questo era un mega scrigno scrigno con dentro dei piumoni sembra fa schifo solo a provarci ad entrare mamma ma che è qua festival dell'uomo ragno no no grazie ah ok io vedrei che viene se il palchino resiste se il palchino resiste una volta non è mia ma è completamente pieno di ragnatele cioè questa è veramente una villa abbandonata da tantissimo grazie per esserti molato Roby com'è su? vieni vieni c'è un salottino no adesso vado Roby dice di salire qua che è molto bello ah diritto non è una bella descrizione c'è sì è una bella descrizione ma non ha il resto è una foto più bella ah sì è anche il punto più ragnateloso ok ma che bello sì è molto carino questo il suo palco fa un po' paura eh e senti proprio la convestità del legno se si può dire e poi la nostra ah che bella ripresa da qua dov'è la perale? andiamo a vederla bagnale tu hai una divisa che ammiro sta piovendo forte no no eccola qua e qua sopra lui avrebbe portato i leoni così dicono ma te lo immagini cioè la cosa più bella cioè più leggenda di così non esiste nient'altro e qua c'è altro macello immagino c'è un forno ma la forni ovunque che uomo particolare perletto ti sta piacendo questo posto? a parte l'odore di cacca di picciolo eh sì e dove mettere i piedi sì ce n'è dai ce n'è ce n'è anche fin troppo esatto esatto è una roba ovunque non c'è un angolo che non sia pieno ma che tenero questo cane senza occhi no ok un occhio ce l'ha ancora che imponenza sta casa comunque è una persona vera non capisco c'è una casa gigantesca bellissima anche qua ve l'ho frullato posato in giro no ma che bello si chiamava geloso si chiamava destra prova grossa anche qua c'è molta confusione amici mi sta pure scaricando la batteria dalla confusione anche qua amici è un gran casino non cambia molto dal piano di sotto anzi il tutto è ricoperto da un sottile strato di cacca di piccione e peccato peccato perché doveva essere una gran villa adesso andiamo a vedere le famose camere da letto che vabbè su instagram sono fuori da tempo sono molto note quindi vedrete anche comunque sia una cosa molto particolare molto bella però la distruzione si vede ogni volta che qualcuno la visita la trova peggio di come l'ha visto l'ultimo che c'è stato 1 avrei voluto ragazzi portarvi tutte le stanze ma l'odore è fortissimo ora cercheremo di immolarci per portarvi la stanza più importante questa qua che è la camera da letto e poi scappiamo da qua sopra perché a parte che anche solamente a livello di respiro c'è un rischio batteriologico enorme al di là di questo è veramente tosta stare qua con questo odore è una tortura Roby la perdi tutta qui dentro comunque l'ho chiusa e poi la perdi tutta qui dentro e poi la perdi tutta qui dentro è la perdi tutta qui dentro Grazie a tutti Grazie a tutti E' la cosa più horror del mondo Sì E' tutti che credevamo fosse il telefono di uno di voi Allora amici abbiamo trovato una sveglia Che è ancora funzionante Sono le 8 Si calpestata per sbaglio Totalmente involontaria ma E' successo e abbiamo scoperto che funziona Nessuno dei nostri telefoni non è Siri di niente Ovviamente non è l'orario giusto Sono le ore 8 e 46 Mamma mia E' horror Minuti ha detto minuti Sì sì questo è horror Questa è benzina Lo leggo Ok amici con un po' di rammarico ce ne andiamo Da questa stanza che ci ha veramente regalato un sacco di emozioni Ed è stata veramente particolare Cioè se pensiamo a tutta la casa come messa E' veramente un miracolo che questa stanza si sia conservata così bene Ora usciamo e decidiamo dove andare Purtroppo ci sono solamente le 4 del pomeriggio C'è già un buio criminale veramente Qua sia l'inverno per noi esploratori Che non ci permette di esplorare tutto il giorno Però regala sempre tante emozioni E niente amici ora usciremo E faremo il saluto Il mare Ok ragazzi siamo fuori E Roby ci sta dicendo che c'è Villa Maria Giovanna Giusto? Sì perché ci coltivavano la marijuana Cioè questo è da vedere ragazzi Sì si è proprio uno spin off Sì si è proprio uno spin off Grazie a tutti. Grazie a tutti.